Ma in questo negozio vendete le lampidi! Le lampidi? Mi scusi, intendeva dire se avete le lampade Abbiamo delle lampade normali e delle lampade a led che fanno tanta luce e si rispargono un sacco di corrente Dal prezzo del cartellino alla cassa vi faccio un ulteriore sconto del 10% No, no! Non mi piace, non mi piace! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Basta non venire!